È partita domenica 10 e termina oggi, martedì 12 febbraio a Milano, la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capologo Lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Da oltre 30 anni la BIT favorisce l'incontro tra decision maker, esperti del settore buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dagli aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. Un'occasione per rappresentare ai tanti la grande forza della campagna, ha dichiarato così ai nostri microfoni l'assessore al turismo della regione campagna Corrado Matera. La campagna è in grande crescita dal punto di vista turistico, i numeri sono ingoraggianti, una grande azione di promozione abbiamo fatto, la riorganizzazione del sistema turistico, dei rapporti che si sono intensificati con alcuni paesi, stiamo esplorando anche altri contatti in modo particolare con gli Stati Uniti. Da maggio ad ottobre ci sarà una linea diretta, un volo, Napoli-New York ed ancora una grande promozione che abbiamo fatto sulle grandi stazioni e anche delle vetrine importanti come quella che abbiamo inaugurato, che ha inaugurato il Presidente De Luca qualche giorno fa, Spazio Campania a Milano, una città europea. Un'occasione per rappresentare ai tanti la grande forza della campagna, un'offerta turistica che si è diversificata e che sarà rappresentata quotidianamente in questa città. Io penso che ci sono davvero le condizioni per crescere sempre di più. Nel 2017 si è registrato un più 12,5%, nel 2018 ancora un più 8%. La Campania oggi è la seconda regione d'Italia che riesce ad attrarre flussi turistici. Un'azione che va verso il turismo culturale, no gastronomico, verde, religioso, scolastico, balneare, di ritorno e tanto altro ancora. Io penso che siamo sulla strada giusta, l'importante è la sinergia che abbiamo messo in campo con l'istituzione, il coinvolgimento della classe imprenditoriale, delle scuole, delle associazioni. Questa è la strada giusta, la campagna crescerà sempre di più con l'aiuto di tutti.